Benvenuti, come addendum alla lezione della sfera volevo farvi vedere come applicare una texture HDR in questo caso noi abbiamo preso da Open Footage un'immagine a 360 gradi e l'ho applicata anziché all'ambiente circostante che abbiamo visto che era questo mondo l'applichiamo direttamente all'oggetto quindi noi prendiamo questa sfera vedete che abbiamo questa immagine HDR e che poi con un certo procedimento di baking riusciamo a trasformarla in questa altra immagine che è quella che andremo poi a applicare in Second Life o in Open Sim tenete conto che le immagini HDR non possono essere applicate direttamente in Open Sim l'avete già scoperto e quindi partiamo di nuovo da zero vi faccio vedere su che cosa e come possiamo lavorare quindi facciamo un new facciamo un discard changes partiamo con gli screencast e il cubo originale lo togliamo quindi diverso dal video che ho fatto qualche settimana fa vi faccio vedere invece come si fa a partire direttamente con add mesh partiamo da una UV Sphere cambiano alcune cosine allora l'UV Sphere per farla sferica la facciamo Shade Smooth è fondamentale e a questo punto andiamo a senz'altro a metterci l'immagine HDR ora l'immagine HDR l'abbiamo copiata da openfootage.net quindi HDRi 360 gradi piazza San Marco Venice mi ha scaricato un openfootage.zip e dentro questo oggetto c'è un HDR di 4 MB che è abbastanza adatto per fare quello che stiamo facendo quindi andiamo su questa sfera andiamo sul residuto e faccio controllare l'UV Editing quindi clicchiamo qua e verifichiamo che la sfera abbia effettivamente una griglia questa che è la UV Map e come vi ho detto è una griglia abbastanza quadrata che sarà quello dove noi andremo poi a comporre il risultato invece noi lavoreremo in Shading allora in Shading che è un po' un modo per vedere i materiali degli oggetti quindi è un modo per cliccare qua vedete che qui sono più o meno le stesse opzioni abbiamo degli slot, uno new che sono questi stessi quindi in teoria se vogliamo visto che manca il materiale possiamo aggiungerlo o direttamente da qua o da qua è un po' analogo quindi diciamo che in queste due finestre si possono fare delle cose leggermente diverse adesso lo vediamo quindi creiamo un materiale nuovo che come vedete in questo momento è un materiale principled quindi è un materiale diverso da quello che vogliamo potremmo creare qua nei nodi quello che ci interessa ma è più facile lavorare sulla destra qui magari lo mettiamo anziché il materiale 001 lo chiamiamo piazza San Marco ok allora una volta vedete che si è cambiato anche qua allora invece che principled clicchiamo sul pallino e andiamo sul background quindi facciamo il background sulla sfera e poi nel color ci mettiamo un environment texture che vedete che è diventata viola perché manca e andiamo a caricarla da nostro blender e abbiamo openfootage net piazza San Marco log.hdr e abbiamo caricato effettivamente la nostra immagine quindi qua vedete che c'è questa immagine la vediamo anche qua in realtà il modo giusto di vederlo sarebbe l'ultimo che è il rendering questo ci permette di vederlo al di là di ogni dubbio quindi questa è la nostra sfera ed è che la sfera è un pochino diciamo difettosa perché è stata fatta da una foto vera con le telecamere che riprendevano verso l'alto l'orizzontale alto e quindi la parte bassa non è stata ripresa ma è più che sufficiente per quello che vogliamo vedere ora il problema come alcuni di voi hanno constatato è che questa immagine HDR non la si può portare in open sim quindi bisogna fare il backing anche di questa immagine a preinciso se per caso vedete che la posizione del campanile è nella direzione opposta a quello che vi interessa bisogna aggiungere due nodi per invertire lungo la X magari lo facciamo vedere verso la fine però adesso rimaniamo un attimo sul semplice e quindi andiamo semplicemente ad aggiungere qua add una texture e la texture che andiamo ad aggiungere è un image texture e qui facciamo uno new e facciamo un backhead chiamiamolo San Marco togliamo l'alpha ok e andiamo a fare il backing qua sopra affinché il backing funzioni occorreva che ci fosse l'uvimap che abbiamo già controllato prima esistere quindi andiamo sulla finestra di backing che è questa la macchina fotografica e ricordiamoci che per fare il backing dobbiamo andare in cycles e in cycles ricordandoci di avere selezionato questa immagine quindi deve esserci il bordo bianco sull'immagine appena costruita andiamo in backing e facciamo bake allora secondo il vostro processore potrebbe impiegarci più o meno tempo questo è il computer abbastanza veloce oltretutto se volete andare più veloce potete anche cambiare il device e mettere baking map saved to internal image e dice di salvartela e questo qui è il backing che abbiamo fatto e questo è il backing che dovremmo andare ad applicare in OpenSIM se vogliamo ed è anche un modo in cui abbiamo convertito un'immagine HDR in un'immagine quella che vogliamo quindi possiamo fare image save as e possiamo salvarla in formato PNG piuttosto che altro back at San Marco sfera PNG ad esempio e abbiamo fatto la conversione come vi dicevo potete fare il backing anche con la GPU quindi con la scheda grafica e quando fate il backing con la GPU se lo ripetiamo baking in teoria dovrebbe essere un pochino più veloce su alcuni computer comunque il risultato dovrebbe essere lo stesso quindi facendo in questo modo siamo riusciti a ottenere la nostra immagine e poi c'è il piccolo avvertimento che abbiamo detto prima che era quella dell'eventuale inversione cioè se noi pensiamo che la posizione del campanile in questo caso sia della parte sbagliata cioè si è invertita la X dobbiamo aggiungerci un facciamo add e ci aggiungiamo eventualmente un aspettiamo dunque sarà input credo che sia e qui no vector quindi il vector sarà un vector transform no aspettate che ve lo trovo ok era effettivamente add input texture coordinate che è questo e queste texture coordinate innanzitutto prendiamo in teoria dovrebbe essere object o UV quindi controlliamo mettendo per esempio UV qua no non è questo quindi dovrebbe essere object ok quindi vedete che così le coordinate dell'oggetto sono quelle effettivamente utilizzate ma se noi vogliamo invertire queste cose dobbiamo aggiungere un altro nodo un nodo che inverte la X e questo nodo adesso lo trovo un istante ok l'ho trovato e praticamente sotto add sarà sotto si chiama mapping quindi lo troviamo sotto vector e si chiama mapping questo qui fa un mapping nel senso che trasforma quello che era un object che era un suo vector e in questo quindi spostiamo un po' tutto così vediamo l'effetto della trasformazione quindi dobbiamo semplicemente invertire la X se invertiamo la X mettiamo meno 1 e poi l'uscita di questo lo mettiamo qua l'effetto di questo vedete che ha invertito e a questo punto siamo riusciti a mettere il campanile nella parte opposta quindi se vogliamo aggiustare un'immagine invertendo ruotando facendo un po' di spostamenti possiamo lavorare in questo modo quindi texture coordinate prendiamo l'object poi prendiamo questo mapping e lo aggiungiamo e otteniamo un'inversione quindi vedete che adesso qua il campanile sta qui sulla destra se noi ripetiamo il baking ah ecco qui c'è un piccolo problema che a questo punto lui ah no dobbiamo cliccare la nostra immagine qua altrimenti lui si arrabbia quindi a questo punto in effetti dovrebbe funzionare quindi ripetiamo ricordiamoci che l'immagine del campanile era qui sulla destra quindi il nuovo baking che stiamo facendo adesso con l'aggiunta di questi due non modi vedete che ce lo fa ce lo cambia di posto ce lo mette in una posizione specchiata e questo direi che è più o meno tutto quello che volevo dirvi con questo con questo video magari soltanto un piccolo ripilogo quindi lo shading serve per lavorare con i nodi qui abbiamo i vostri materiali ricordiamoci che potete mettere come un background un'immagine di environment 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 vuol dire che è stata scattata a 360 gradi questo è il significato di questo genere di nodo poi col baking e poi andando in cycles siamo andati a fare il baking dell'immagine questa immagine è un'immagine PNG del tutto naturale normale quindi può essere usata ricordatevi che questa è la nostra UV map che fa questi effetti quando poi la riportate su second life o in open sim questa sbavatura qua non ci sarà più questo è un difetto dell'immagine originale ma come vedete non ha un grande effetto se non nella parte bassa e cos'altro niente direi che questo è tutto buona giornata che è un'immagine che è un'immagine che è un'immagine